Quando sono arrivato a Brescia avevo il titolo di economo, che voleva dire gestione. Poi invece arrivato qui mi sono trovato di fronte a tutto quello che riguardava la organizzazione dell'università. Devo dire che conoscevo tutti gli studenti per nome e cognome perché mi ero messo d'accordo con i professori che prima dell'esame andavo io a fare l'appello in aula, per cui c'era un riscontro e questo serviva per in qualche modo favorire gli studenti che venivano da lontano. Uno che veniva da Cremona, Mantua, Trento, davo la precedenza sull'esame in modo tardi e non obbligare ad avere ulteriori spese. Nel momento della contestazione per cui c'era un rapporto cordiale, corretto, naturalmente qualche volta c'è stato anche discussioni, però non erano mai arrivati allo scontro. Devo proprio dire questo nel massimo rispetto. I professori e gli studenti parlavano di stile slumpo, che voleva dire una certa comportamento. All'interno dell'università stupiraggine o urli così non erano permessi. Gli studenti sui corridoi o da basso non li lasciavo tranquilli perché dicevo siete qui, avete il vostro tempo, dovete sfruttare il vostro tempo per cui o a lezione o in biblioteca, al bar o qui a begalonare, niente. E rispondevano e andavano via. La stessa cosa con con i professori. Dicevo che per esempio mi trovavo con dei professori che mi venivano segnalati dai bidelli che erano in ritardo la seconda volta o la terza erano in aula al suo posto per far capire che il rispetto nei confronti degli studenti vuol dire anche questo. Poi per quel che riguarda gli studenti vi dicevo prima che lungo la strada e i percorsi che facevo non ero mai solo perché ne approfittavano chiedendo una cosa, l'altra, consigli, pareri. Posso dire che avevo avuto dato e ricevuto fiducia. Quando è partita la matematica, un po' quella di scienze matematiche, mi sono trovato a dire ma come mai soltanto teoria e niente pratica? Allora attraverso quelle persone di cui parlavo prima la rete, ero venuto in contatto con industriali di Lumezzane, di Cardone e Valtrompia, poi con un professore qui che aveva il centro di tumori qui all'ospedale civile. Allora hanno dato questi messaggi ai professori i quali hanno cominciato ad avere dei rapporti con questo. Perché dico mi sta bene la teoria, però se la teoria non si sfrutta l'occasione anche della pratica è un po' scarso. Anche se ho sempre detto agli studenti quelli che venivano, ma qui non mi interessa quella. Si ricordi che la nostra mente è come una spugna. Assorbe, sembra asciutta, però nel momento del bisogno quello che ha immagazzinato esce. e così è poi nella vita.